Ogni anno si producono in Italia circa 30 milioni di tonnellate di rifiuti urbani a cui se ne devono aggiungere altri 160 milioni di tonnellate di rifiuti speciali, quindi industria, edilizia, eccetera. Una quantità enorme che ci costa denaro gestire correttamente, in particolare per quella parte che non è riciclabile e quindi finisce o in discarica o viene bruciata negli inceneritori. In particolare negli inceneritori bruciamo circa 15 milioni di tonnellate di rifiuti all'anno e questa operazione ci costa, cioè costa ai cittadini, circa 200 euro a tonnellata come ordine di grandezza. Eh sì, perché dovete sapere che è il comune che paga l'inceneritore affinché questo accetti i rifiuti da bruciare e non viceversa. Ora, ricordiamo innanzitutto che per ogni tonnellata di rifiuti bruciati si genera una tonnellata di emissioni di CO2, l'anidride carbonica. Ricordiamo poi che è stato deciso che sì i prodotti che arrivano da fuori Europa dovranno pagare una tassa proporzionale proprio a quanta CO2 è stata emessa durante la loro fabbricazione, ma anche le emissioni di CO2 interne all'Europa saranno tassate, comprese quelle degli inceneritori. Quindi se nel 2026 useremo ancora gli inceneritori, il costo di smaltimento aumenterà di quasi un centinaio di euro a tonnellata ed è un mercato per cui nessuno può essere sicuro dell'importo esatto, sovraccosto che pagheremo noi con relative tasse. Ma sappiate che esiste la soluzione, esistono tecnologie, tra l'altro sviluppate in Italia, per azzerare il problema, cioè prendere questi rifiuti che attualmente non sono riciclabili e con dei processi particolari e trasformarli in prodotti che ci servono e che non sono dannosi, come etanolo, metanolo, idrogeno e anche i futuri carburanti per gli aeroplani e per le navi, il tutto senza emettere CO2 in atmosfera. Vi descriverò dettagliatamente queste tecnologie a breve con un lungo ed approfondito video. L'importante è che sappiate da subito che queste tecnologie esistono e che permetterebbero di diminuire il costo di smaltimento dei rifiuti. Però se la politica ostacolerà la transizione dai vecchi inceneritori a queste nuove tecnologie, le tasse sui rifiuti saliranno perché dovremo obbligatoriamente pagare la relativa CO2 emessa. Tenetelo a mente la prossima volta che votate.